La macchina da presa sulle piste di alcuni alpigiani a caccia di camosci sui monti della stidia meridionale. Un'ardua impresa, anche perché bisogna andare molto cauti, tanto per non precipitare in qualche burrone, come per non spaventare una selvaggina sospettosissima e dotata di un fiuto eccezionale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS